Come ben saprete, pochi giorni fa, fra il 9 e il 10 settembre, ha avuto luogo il G20 a New Delhi in India. Beh, perché non lo sapesse, questo è un summit internazionale che riunisce i capi di Stato, i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei 19 paesi più industrializzati al mondo, più l'Unione Europea. Ecco, il G20 rappresenta circa l'85% del prodotto interno lordo mondiale, l'80% del commercio globale e i due terzi della popolazione planetaria. Quindi ragazzi, capiamo bene come abbia una rilevanza davvero importante per le questioni internazionali. Quest'oggi vedremo quello che è successo durante il summit di quest'anno, cosa ha deciso di fare l'Italia sulla via della seta, che cosa significa l'assenza di Putin e di Xi Jinping al vertice, cosa hanno detto i leader in merito alla guerra in Ucraina e tanto altro ancora. Quindi rimanete qui con me ragazzi perché oggi c'è un bel po' di carne al fuoco. Innanzitutto quest'anno il summit ha avuto un sapore diverso. Infatti Russia e Cina non hanno partecipato al G20 in quanto Putin e Xi Jinping hanno deciso di boicottare il vertice di New Delhi. Questa è stata la prima volta nella storia del G20 che due dei maggiori paesi membri hanno disertato il summit, creando una frattura fra le potenze mondiali. Ora c'è un grande punto interrogativo sul perché i due leader non si siano presentati. Beh, magari posso capire Putin che non si presenta perché c'è un mandato di cattura nei suoi confronti a livello internazionale e oltre a questo il suo paese è stato completamente isolato dal sistema finanziario internazionale. Ma per quanto riguarda invece il presidente Xi, quali ragioni ha avuto per rinunciare a sedersi al tavolo dei grandi? Ora vi dico cosa ne penso io. Secondo me Xi Jinping non è venuto perché trova questo summit una grande perdita di tempo e non avrebbe portato a nulla di concreto per la ripresa della sua economia. Come tutti noi sappiamo il dragone è alle prese con una preoccupante crisi immobiliare e la sua ripresa economica vacilla. Quindi Xi è rimasto a casa per risolvere i suoi problemi domestici piuttosto che ritrovarsi faccia a faccia con gli USA che non fanno altro che mitragliare di sanzioni e di sanzioni le aziende cinesi nell'ambito tech. Ora guardate un attimo questa foto che risale al summit del G20 dello scorso anno. I due leader sembravano quasi amici per la pelle. Inoltre parlando faccia a faccia erano d'accordo entrambi che le tensioni fra i due paesi dovevano sciogliersi e migliorare gradualmente. Ma a distanza di un anno che cosa è successo? Beh la situazione non ha fatto altro che peggiorare e peggiorare. Non solo Biden ha definito il presidente cinese come un dittatore ma ha scatenato una pioggia di nuove sanzioni e basta. Ragazzi l'America sta continuando a firmare ordini per limitare gli investimenti che fluiscono sulla tecnologia cinese. Con quale obiettivo? Beh per frenare chiaramente il suo progresso tecnologico. Quindi Xi avrà pensato ma Biden che dialogo potrebbe instaurare con me se poi mi pugnala le spalle, non mantiene le promesse e continua a puntarmi il fucile contro? Io il G20 non ci vengo perché tanto ho di meglio da fare. Ma ora passiamo al secondo punto chiave dell'incontro. Ovvero la decisione dell'Italia, della Meloni, di uscire dalla Via della Seta. Perché non ne fosse a conoscenza amici? La Via della Seta è un'iniziativa lanciata dalla Cina nel 2013 che prevede l'investimento di centinaia di miliardi di dollari in vari paesi. L'obiettivo sarebbe quello di rafforzare le infrastrutture commerciali nel mondo ma soprattutto per espandere l'influenza cinese su numerosi paesi tra Africa, Europa e Asia. Dunque l'Italia è stata la prima economia del G7 a firmare un memorandum di intesa con la Cina sulla Via della Seta nel 2019. L'accordo prevedeva la partecipazione italiana a diversi progetti infrastrutturali come il porto di Trieste, la ferrovia Torino-Lione eccetera eccetera eccetera. Questo accordo però oltre ad aver portato pochi benefici per il nostro paese nel tempo ha raccolto una moltitudine di critiche dagli alleati in particolare dagli Stati Uniti che vogliono fermare a tutti i costi l'influenza cinese. Quindi la Meloni ora che cosa sta facendo? Beh, da un lato sta stracciando l'accordo con Pechino sulla Via della Seta ma dall'altro si sta unendo al corridoio economico India, Medio Oriente ed Europa che Biden ha definito come un grande investimento. Il nuovo corridoio che coinvolge Stati Uniti, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Italia, Germania e Francia ha l'obiettivo di ridurre il tempo necessario per trasportare le merci tra le nazioni in gioco. Inoltre mira ad aumentare la cooperazione energetica e a migliorare le loro connessioni. Per fare ciò in pratica vogliono creare un gasdotto attraverso il quale far circolare l'idrogeno verde. Inoltre vogliono costruire infrastrutture per collegare le reti elettriche e installare anche dei cavi sottomarini per facilitare lo scambio di dati. Ma ora ragazzi passiamo al terzo punto saliente del G20 ovvero il fatto che si tratti dell'ultimo vertice del gruppo dei 20. Infatti grazie agli sforzi dell'India l'Unione Africana ora è un membro permanente del gruppo portando il numero non più a 20 ma a 21 e includendo quindi il sud globale. Questo significa che l'organizzazione che rappresenta i 55 paesi africani ora ha lo stesso diritto di partecipare alle decisioni del gruppo dei 20 paesi più influenti al mondo. Questa decisione arriva anche in concomitanza il fatto che ad oggi 6 dei 12 paesi a più rapida crescita nel mondo sono per appunto africani. Ora invece è arrivato il momento di approfondire uno dei temi più delicati e controversi del G20 di quest'anno ovvero la guerra in Ucraina. Le 19 più forti economie del mondo più l'Unione Europea non hanno fatto alcun riferimento alla Russia nella parte dedicata alla guerra in Ucraina. Nel precedente vertice, solo per farvi un esempio, del G20 a Bali fra tutti i partecipanti c'era un accordo comune per allearsi e fermare l'invasione disastrosa della Russia in Ucraina. Ma da allora però nulla è cambiato. Il conflitto si è intensificato e il mondo si è diviso ulteriormente arrivando al punto che nel G20 di quest'anno la parola Russia non è stata associata al conflitto. Inoltre, come se tutto questo non dovesse bastare, il presidente brasiliano Lula ha assicurato che Putin non sarà arrestato qualora dovesse partecipare al G20 in Brasile nonostante ci sia un ordine di cattura internazionale in suo favore. La ragione per cui i leader non hanno condannato la Russia è per il semplice fatto che molti membri del gruppo vogliono evitare di rompere completamente i rapporti con Mosca perché hanno interessi economici, compresa l'India che ha interessi sì con gli Stati Uniti ma ha interessi soprattutto con la Russia. Allo stesso modo, altri paesi del G20 come la Cina, la Turchia e il Sudafrica hanno avuto delle riluttanze a condannare appartamente la Russia per motivi di alleanza, di equilibrio regionale e di opportunità economiche. Secondo voi ragazzi, è stato giusto nell'affrontare questo tema così caldo e importante? Inoltre, cosa ne pensate della decisione dell'Italia di abbandonare gli accordi con Pechino per rifugiarsi sotto l'ala protettrice degli States? Il video finisce qui, grazie per la visione, io vi saluto e vi mando un grande abbraccio Ciao e alla prossima!